Nuovi accertamenti della Procura Fiorentina per l'indagine che coinvolge Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri nell'ambito dell'inchiesta sulle stragi del 1993 a Firenze, Roma e Milano, aperte e chiusa più volte a partire dagli anni 90. E' quanto riportano l'Espresso Repubblica e il fatto. Le nuove verifiche sono partite circa un anno fa, dopo che Giuseppe Graviano, capo del mandamento di Brancaccio di Palermo, ha parlato davanti alla Corte di Assise di Reggio Calabria nel cosiddetto processo alla Ndrangheta Stragista nel quale è stato condannato all'ergastolo. Parlando davanti ai giudici, Graviano ha accusato il leader di Forza Italia di aver fatto affari con suo nonno che avrebbe consegnato a Berlusconi 20 miliardi di vecchie lire per investirli nel campo immobiliare, dichiarazioni che avrebbero provocato un'accelerazione delle indagini. Graviano. Graviano.